Onorevole Carnevali, alla luce dei più recenti sviluppi, quali può essere il contributo, l'attività, l'impegno delle istituzioni nella ricerca del sommerso e in generale nel raggiungimento dell'obiettivo dell'eliminazione dell'epatite C dall'Italia come previsto dall'OMS? Noi come Paese abbiamo già dimostrato di essere fortemente all'altezza di questo obiettivo perché siamo tra i Paesi avanzati per quanto riguarda l'eliminazione dell'epatite C. Il punto vero attualmente è la questione relativa al sommerso e come riusciamo è la questione di un'omogeneità su tutto il territorio nazionale delle azioni che dobbiamo mettere in campo. Io mi auguro, sono molto preoccupata, non ve lo nascondo, perché ho fatto un emendamento proprio al mille proroghe per chiedere anche l'introduzione dello screening costruito con il Ministero della Salute sul quale c'è qualche difficoltà in termini di finanziamento. A me questo dispiace molto perché credo che se in questo Paese non riusciamo a riconoscere che la prevenzione è la miglior cura che possiamo mettere in campo, che permette a pazienti di non poter avere problemi come possono essere la cirrose epatica, gli epatocalcinomi, che hanno tra l'altro costi sanitari che impattano in modo molto maggiore a quello che invece possiamo offrire attraverso quello che noi abbiamo chiamato vaccino, per capirci anche magari impropriamente. Ecco, quindi io mi auguro che davvero ci sia la consapevolezza da parte della politica, anche devo dire da parte mia, un impegno davvero molto determinato. È un tema anche sul quale il Ministero della Salute si sta particolarmente impegnando e gli va riconosciuto. Quindi noi abbiamo adesso l'esigenza di fare in modo che le regioni che magari non hanno utilizzato tutte le risorse che avevamo dato disponibili con il Fondo dei Farmaci Innovativi Non Oncologici abbiano la consapevolezza di quanto insieme potremmo fare per sconfiggere in modo definitivo nel nostro paese e quindi arrivare a un'eliminazione dell'epatite C.